che cosa resta della madre che bella domanda è il tempo di dover dare una seria risposta a questa domanda perché la madre è una delle figure più perno della nostra società tutto gira attorno a questa maternità oggi purtroppo la maternità sta attraversando possiamo dire una fase di crisi una fase di grandissimi rischi se è vero che da un lato siamo usciti fuori da una narrazione fin troppo patriarcale e quindi questa donna che doveva coincidere solo con la madre con tutto ciò che richiamava la casa oggi dopo il 68 e dopo tutti i movimenti di liberazione per quanto riguarda la donna e quindi le femministe tutto ciò che di buono hanno portato ebbene oggi si sta scivolando verso una deriva dove sta avvenendo proprio un divorzio tra quella che è la figura della madre e quella che è la dimensione della donna proprio quella tipicamente femminile rivolta all'amore verso l'altro dobbiamo stare molto attenti perché chiaramente una madre che fa gocita la donna si impoverisce e così una donna che rifiuta di essere madre per qualsivoglia motivo ecco che diventa anch'essa una forma di povertà molto molto grave dobbiamo stare attenti a delle narrazioni che oggi vogliono fare della donna qualcosa che forse non è nel più profondo della sua natura vi è una narrazione tecnologica che vuole emancipare la donna dal suo stesso corpo e quindi poter anche utilizzare il proprio grembo a fini commerciali vi è anche una narrazione più capitalistica più legata al senso del profitto della realizzazione di sé che vuole vedere una donna affermata nella società e dove i figli costituiscono per essa un handicap come può addirittura il figlio essere concepito come un ostacolo alla realizzazione della donna eppure questo avviene vogliamo però adesso chiedere all'arte questa grande arma che è stata messa nelle mani dell'uomo per poter esprimere tutto il suo mondo interiore vogliamo appunto chiedere all'arte di dirci qualcosa in merito a questa dimensione della maternità e vogliamo farla con un'opera rinascimentale del maestro giovanni bellini si tratta della madonna del prato e prima di voler tirar fuori alcuni aspetti per noi significativi vogliamo commentarla attraverso i versi di un grandissimo poeta Rainer Maria Rilke tu hai stupende benedette le mani nascono chiare in te dal manto luminoso contorno io sono la rugiada il giorno ma tu tu sei la pianta non abbiamo trovato parole più azzeccate di queste del grande poeta austriaco per poter entrare dentro la bellezza di questo dipinto l'autore ha voluto suddividere in tre parti quest'opera e possiamo notare un grande triangolo nella terza parte di quest'opera appunto in cui è suddivisa la madonna in maniera un po sorprendente non siede su una sedia ma siede per terra e cosa ha voluto con questo trasmetterci l'artista l'artista ci vuole trasmettere la vicinanza appunto della maternità della femminilità all'humus della terra humus è la stessa radice della parola umile quindi la donna la madre ecco lei che porta in sé quell'umiltà capace come la terra di accogliere il seme di accogliere la nuova vita di diventare ospitalità assoluta per qualcosa di totalmente diverso da sé che è quella microscopica vita che lei è capace di accogliere nel suo grembo ma vi è anche un'altra nota caratteristica osserviamo come in questa forma triangolare che assume la madonna troviamo un manto molto vistoso che appare salire da terra di colore blu questo manto sembra appunto la rugiada la rugiada è questo fenomeno naturale che avviene ai primi chiarori dell'alba quando appunto dalla terra stessa promanano queste piccole goccioline che biblicamente sono state lette come segno di una benedizione quindi come presenza di una dimensione soprannaturale all'interno della stessa natura è meraviglioso immaginare come la madre più o meno consapevolmente esprima la sua funzione materna attraverso la protezione attraverso la benedizione di uno spirito che la avvolge ma attenzione è una che promana dalla terra ovvero una madre sempre attenta a ciò che sono le cose le faccende del mondo della vita concreta di tutti i giorni osservando ancora meglio il quadro notiamo che questa donna ha non nelle mani ma sulle gambe un bambino sappiamo benissimo essere il bambino gesù ma se guardiamo bene questo bambino è molto più luminoso della madre anzi potremmo dire che la madre riceva luce proprio da quella fonte luminosa che è il bambino e questo è un altro aspetto della maternità la maternità è tutta proiettata verso l'altro la maternità pone al centro non se stessi ma appunto i bisogni dell'altro questa donna che è maria di nazareth intuiva che la luce non era se stessa ma la luce era quel bambino che aveva miracolosamente ricevuto nel grembo possiamo anche dire che aveva la capacità di coglierne il dono un altro aspetto molto importante lo ricaviamo se osserviamo le due diagonali di questa opera queste due diagonali si intersegano proprio al centro in cui troviamo le mani giunte ma questa congiunzione tra le due diagonali coincide con un altro punto di congiunzione se idealmente immaginiamo la linea che congiunge lo sguardo della madre con gli occhi del bambino possiamo vedere questa linea passare attraverso le punta delle dita di queste mani oranti cosa vuole dirci quest'altro particolare questa madre guarda al proprio bambino in un atteggiamento di preghiera se da un lato tutto il movimento del corpo esprime la cura che ha questa madre nei confronti del suo bambino è proprio un po' curva un pochina tutta protratta verso di lei dall'altro possiamo comprendere come lei contempli questo bambino non come suo possesso ma come appunto qualcuno di completamente altro ricevuto in dono è straordinario pensare come questa madre stia vivendo dentro di sé già una separazione sta comprendendo come quel bimbo non gli appartiene ma solo attraverso la forza della preghiera lei può comprendere chi è realmente quel bambino lei lo guarda proprio a partire da quelle mani giunte e per giunta le punta di quelle dita ovvero laddove finisce l'umano e inizia il divino perché abbiamo voluto scegliere quest'opera d'arte oltre che per i motivi suddetti ovvero di restituire quella valenza antropologica una figura straordinaria come quella della maternità anche per poter comprendere la parola di dio che incroceremo appunto nella festa della madre di dio anzitutto è la festa del primo dell'anno e quindi metterci sotto lo sguardo di questa madre è sicuramente qualcosa che può riempire il cuore di ognuno di noi ma poi perché la parola se ci radichiamo veramente nel suo spirito ci può restituire dei significati ancora più alti a quelli che l'arte ci ha comunicati sin da adesso anzi la parola ci può far comprendere ancora di più i motivi che hanno spinto l'artista giovanni bellini a realizzare questo suo capolavoro cosa possiamo dire nel vangelo di luca al capitolo 2 che si ascolterà troveremo che maria contemplava tutte queste cose che accadevano ovvero l'adorazione dei magi la venuta dei pastori in questa capanna di betlemme custodendole nel proprio cuore cosa significa che custodiva nel proprio cuore questa è un'espressione che ci richiama fortemente proprio l'immagine che abbiamo analizzato significa che lei operava una continua azione di rimando tra la realtà di tutti i giorni che lei stava vivendo con quel bambino tra le mani è la realtà soprannaturale la realtà divina perché il verbo greco si un ballo con cui l'evangelista luca ci descrive appunto questa custodia nel cuore questa meditazione di maria nel suo profondo ci vuole proprio significare l'unione di due aspetti cioè quello umano con quello divino allora qui la madre può veramente restituirci un significato grande poc'anzi il bambino abbiamo detto trova nello sguardo della madre il proprio riconoscimento ma se ascoltiamo il libro dei numeri di questa festa possiamo anche qui trovare il volto del signore che assorge a benedizione per l'uomo come a dire che il volto della madre diventa il volto di dio attraverso il quale ognuno di noi viene riconosciuto per ciò che è e allora col salmista possiamo veramente lodare il signore dire la terra ha dato il suo frutto oppure la verità germoglierà dalla terra perché proprio questa terra che ha la forma di una madre avvolta dalla ruggiata dello spirito che può venire fuori quell'uomo nuovo che trova in gesù cristo il suo infinito modello di ispirazione e di realizzazione e con questo auguriamo a tutti di trascorrere un anno colmo di ogni luce nella madre del signore pace e gioia grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti